Questo video vuole aiutarti a cambiare prospettiva. Molto spesso siamo bloccati nella vita perché osserviamo i problemi sempre. Dalla stessa prospettiva. Cambiare prospettiva, osservare le cose da angolazioni diverse ci aiuta ad aprire la mente, ciò che non vedi tu magari lo vede un altro. Osservare le cose dall'alto dona una visione olistica ed espande la mente. Perché osservando dall'alto tutto acquisisce un significato diverso. Nella PNL si parla di visione associata e visione dissociata. Quando nell'immagine della mente ti dissoci e osservi te stesso. Dall'esterno sei in grado di osservare le cose e i problemi da un punto di vista diverso, inizi a notare cose che prima non notavi. Fermati. Chiudi gli occhi. Immagina. Proietta sullo schermo mentale l'immagine di te che si trova in Quella situazione che non ti piace, ora immagina di uscire dal tuo corpo. Immagina di volare in alto e di osservare tutta la scena dall'alto. Come ci si sente, cosa vedi che prima non vedevi. Ora immagina di incontrare qualcuno che ha già risolto il tuo. Stesso problema, immagina di planare su di lui e di entrare. Con la tua coscienza nel suo corpo, osserva il mondo con suoi occhi. Cosa nota lui che tu non notavi nemmeno, che soluzioni ha da insegnarti. Se questo non basta cambia ancora prospettiva, cambiala mille volte prima. Di arrenderti sicuramente alla fine riuscirai ad uscire dal problema. Abbi fede, non perdere la fiducia, si tenace e persevera. Innalzati al di sopra. Dei problemi ed osservali dall'alto. Perderanno forza. Perderanno forza e tu ne acquisirai. Cambiando il punto di vista cambi il tuo mondo. Esci dagli schemi mentali ed apri la mente. Sei più grande di quello che credevi di essere. In bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie a tutti